quindi ricapitolando chi pone una domanda introdotta da nonne si aspetta una risposta positiva sì chi invece pone una domanda introdotta da num si aspetta come risposta un no in abbe i due casi si tratta di domande retoriche che presuppongono cioè implicita la risposta chi invece pone una domanda introdotta da ne pone una domanda reale per cui non si aspetta una risposta in particolare